Anche la senatrice Paola Taverna è con noi nella giungla. Buonasera. Buonasera Taverna. Benvenuta. Allora, cosa non vi convince della versione renziana e perché quindi concentrare ancora le attenzioni su questo che per molti versi è un affare vero, oltre che giudiziario e anche politico? No, la versione renziana è pura fantasia. I fatti sono chiari, noi li abbiamo denunciati ma li abbiamo fatti in momenti non sospetti perché era il 2014 ed è chiaramente un classico conflitto di interessi del quale questo governo ormai ne fa bandiera su ogni provvedimento che passa in aula. Ora, fuori del ministro Guidi che aveva un interesse totalmente personale nel vedere, indicare Temparossa come sito strategico e quindi bypassare tutta una serie di procedure che mirano salvaguardare l'ambiente, noi siamo stanchi di vedere distruggere il nostro paese perché qui si parla di tante cose ma non si ricorda quello che questo paese già porta come ferite che sono Gela, Augusto, Priolo. Sì, perché poi tra l'altro, Taverna, oltre al fatto della trivellazione in sé c'è anche il discorso della lavorazione del Grigio e quindi conosciamo anche alcune realtà particolari. Ma noi stiamo tornando adesso, io sono in viaggio con il collega Vignaroli che tornerà in Basilicata perché già c'è la commissione di Chietta sui reati dovuti all'inquinamento che lavorava su il disastro che è stato prodotto dall'ENI, che smaltive rifiuti fingendo che fossero rifiuti comuni quando invece sono rifiuti speciali e questo è il classico modo di operare che vede discusso il nostro paese da 40 anni. Io sono stata, lo chiamano veramente il triangolo dei veleni che è Augusto, Priolo e Melilli e che è ciò che rimane dopo che hanno fatto finta di fare il bene del paese procurando posti di lavoro che lasciano in realtà inquinamento, malattie, morti, addirittura c'è, ad Augusta ci sono bambini che nascono con malformazioni genetiche, questi si devono fermare, le energie fossili sono superate, dove stanno facendo l'impianto Tempa Rossa? Ci sono le paleoliche, è veramente la follia di un governo che guarda esclusivamente il momento, i propri interessi, se ne frega delle generazioni che verranno e se ne frega delle generazioni che ci sono oggi. Taverna, leggo un messaggio di Francesco D'Aprato, sul discorso petrolio io ricordo del nostro premier all'appoggio di Marchionne e della Fiat, che ha detto che in America di non comprare la 500 elettrica, questa dichiarazione me la ricordo, perché ci rimettono soldi e ho detto tutto, Francesco D'Aprato. Ha detto tutto, è vero, qui si parla solo di soldi. Allora, un'altra cosa importante, il 17 aprile si vota per questo referendum e la partita si gioca soprattutto sul raggiungimento del quorum. Ce la faremo, ce la farete? Dobbiamo farcela, non dica ce la farete, ce la dobbiamo fare. Io ho detto infatti ce la faremo, ce la farete, perché intanto è una lezione di democrazia. Il sì, che è secondo me l'unico voto da dare, perché nessuno di noi ha voglia di vedere il Mediterraneo, che è un mare chiuso, comunque a rischio di un possibile disastro ambientale. Ma l'importanza del voto al referendum è l'ultimo strumento che abbiamo per dimostrare che questo paese non si lascia comandare, ma vuole comandare se stesso. E' la più grande espressione di democrazia che ci è rimasta in mano. Io approfitto dei vostri microfoni e mi scusi, ma io sono giorni e giorni che vedo veramente la distruzione. La distruzione intorno a me nel modo di comportarsi di questa classe politica, nei provvedimenti che stanno adottando. Nella spacciataggine con la quale dicono, sì l'ho fatto e allora, beh si è dimesso e quindi sta tutto a posto così, non sta a posto niente. Questo è quello che vogliono farci credere. Invece c'è un altro modo di poter governare ed è ciò che le persone devono ricordarsi. Non facciamoci fregare, questo è il primo di uno dei tanti referendum importanti ai quali siamo chiamati. Il prossimo sarà la riforma costituzionale. Andiamo a votare ognuno liberamente per la propria coscienza. Io invito a un sì, ovviamente questo delle trivelle, ma chiedo che si vergogni chi ha chiesto di fare attenzione. Oltre a fare una cosa sbagliata è un reato. Quindi si vergognassero. Io tra l'altro voglio dire che domani alla Gabbia avremo una lunga intervista con Beppe Grillo. E Beppe Grillo va ammesso, va riconosciuto che anche nei suoi spettacoli tantissimi anni fa parlava proprio ormai dell'opportunità di affrontare e di superare il petrolio. Mi ricordo quando faceva l'Aerosol con la macchina elettrica. In effetti è vero, ci sono delle nuove tecnologie, ma che l'Italia e l'Europa blocca. Perché? Perché evidentemente ci sono dei cartelli che hanno il business. Ci sono degli enormi interessi legati a un mondo e a un modo di vedere il mondo che sta morendo. A noi continuano a vederci come dei sognatori. Noi siamo solamente la generazione, e parlo per me che forse già ho fatto un bel percorso, ma io vedo mio figlio ed è una generazione che ha diritto a vivere un mondo differente. Abbiamo fatto tanti errori. Abbiamo la possibilità di recuperare, però basta continuare a fare gli stessi errori. Un paese come il nostro, che veramente ha l'opportunità di sfruttare risorse naturali che garantirebbero buona parte dell'energia, anche perché ricordiamolo, che l'energia che noi abbiamo con le estrazioni petrolifere, se no il 7% del bisogno nazionale, in compenso l'Italia ha 36 siti di interesse nazionale che dovrebbero essere bonificati per i danni che sono stati fatti, per la maniera dissennata con la quale hanno gestito... Allora, Taverna, ultima domanda. Dario Dacomo, brava, brava, eliminiamo le nostre trivelle, così poi andiamo a comprare il petrolio dagli altri. Aggiungo che, questo ha scritto Dario Dacomo, aggiungo che oggi sotto l'hashtag Matteo risponde, ha detto che poi dobbiamo comprare il petrolio dai paesi arabi e dalla Russia. Allora, io faccio presente, mi sembra Diego, l'ascoltatore che ha scritto, non ricordo il nome dell'ascoltatore che ha posto... Dario, Dario Dacomo. Dario, Dario, allora io però ti dico anche che il petrolio che verrà estratto, eventualmente a tempo rossa, è destinato alle esportazioni. Qui in Italia ci rimarrà il fango e l'acqua sporca con la quale separano il petrolio dai materiali inquinanti, a noi rimarranno i materiali inquinanti e il petrolio lo esporteranno altrove. Neanche ce lo fanno raffinare. Riflettete, riflettete bene di quello che stanno dicendo e di quello che realmente accade in Italia. Allora, ringraziamo Paola Taverna per essere stata con noi. Alla prossima. Grazie, buonasera. Grazie a voi, buonasera.